Ciao a tutti amici, è arrivato l'inverno e con esso anche il raffreddore, non ho voce ma non potevo mancare all'inaugurazione di City Pub Paninoteca e che Paninoteca si trova al Corso Umberto I numero 367 Casa Nuova di Napoli per info 081-190-01537 ed ora entrate con me Siamo anche su Facebook City Pub Paninoteca Eccoli qua gli artefici di tutto ciò, ragazzi i vostri nomi? Walid Nicola Non mi fottete che non ho la voce, diciamo subito una cosa, questa sera si inaugura City Pub Paninoteca Di Paninoteca ce ne sono tantissime, un motivo in più per scegliere questa City Pub Che facciamo le cose molto buone, montiamo anche sul brezzo che è più basso, la qualità Bellissimo, tu cosa dici Nicola? Praticamente le stesse cose di lui, qualità e risparmio Non ci resta appunto che provare questo panino, io intanto lo proverò fra pochissimi minuti Io, voi no, dovete venire qui, vi aspettiamo, ciao All'interno anche un'accogliente e coloratissima sala per gustare tutte queste bontà che avete appena visto Eccola qui, una bella familiola appena arrivata, conosciamoli insieme, come ti chiami? Roberto Lidia Lidia e questo metto? Simone Simone, lei piccolina non parla ancora Ragazzi, allora stasera si inaugura City Pub E' la prima volta ovviamente che venite qui Cosa vi aspettate da questa Paninoteca? Una buona qualità Una buona qualità e anche buoni alimenti, no? Certo, certo Stasera cosa prenderete per inaugurare alla grande? Il soldo panino a me piace molto con sassicci friggiarelli E tu invece? Non lo so ancora, guarderò il menù Allora ragazzi facciamo un augurio a City Pub Paninoteca Tanti auguri Tantissimi auguri Anche da parte vostra dai Tantissimi auguri Auguri, auguri Tantissimi auguri Che bella che sei, ciao E questa sera qui all'inaugurazione di City Pub Paninoteca Ebbene sì, sindaco, non ho voce C'è anche il sindaco di Casa Nuovo, il signor Antonio Peluso Signor Antonio Peluso Vogliamo assolutamente fare un augurio ai ragazzi di City Pub Paninoteca Certamente, ma come sindaco quando vedo che apre un'attività in città immagino che la città progredisce, si migliora, viene offerto un servizio, ci sono persone che lavorano, c'è un servizio fatto agli utenti e se noi immaginiamo che questo è il segnale evidente di una comunità vivace non possiamo che registrare con piacere un evento di questo tipo. Se poi aggiungiamo che si tratta del figlio di un amico che noi conosciamo, ci conosciamo da anni Giuseppe, Giuseppe Non posso il padre Raffaele, posso che fargli i migliori auguri, che l'attività sia la più prospera possibile, che abbia possibilità di svilupparla, migliorarla e in modo che abbia soddisfazioni lui Perché le sue soddisfazioni coincidono con un servizio alla città e quindi con l'interesse anche della città Ottimo sindaco ma anche ottimo amico devo dire, quindi viva Casalnuovo, viva City Pub e viva il sindaco, ciao! E sono in compagnia del titolare, il bellissimo, guardate che occhioni che ha, e il simpaticissimo Giuseppe, ciao Giuseppe! Ciao, ciao gli amici di TLA! Giuseppe scusami per la voce, intanto parliamo di questa bellissima struttura che si è appena inaugurata, cosa ti aspetti? Mi aspetto molto la prosperità perché abbiamo voluto creare qualcosa di diverso a Casalnuovo, qualcosa di alternativo per i giovani, come potete vedere queste immagini rappresentano le più belle città del mondo Oh, sento gli zampognari, anche loro qui alla tua inaugurazione! Tutti in diretta e non era programmato niente! E' bel Natale vicino, quindi buon Natale! Auguri! Allora Giuseppe, questi quadri sono davvero bellissimi, rispecchiano appunto località mondiali Mi piace molto viaggiare, facciamo viaggiare, con questi posti li ho visitati personalmente e quindi ho preferito inserirli in questo locale Beh, il panino migliore dove l'hai mangiato? Ah sì, di Pablo, mangeremo! Ecco, era questa la risposta che volevo! Tanti auguri, in bocca al lupo per tutto e soprattutto tanti, tanti, tanti panini! Grazie, ciao! Ed ora Giuseppe con il sindaco di Casalluovo e Don Peppe taglierà il nastro e tutti insieme diremo tanti auguri! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen! Pace, gioia e abbondanza in questo negozio e per tutti coloro che vi lavorano dentro Aspergi, mio Signore, colissopo, sarò purificato, lavami e sarò più bianco della neve Abbi pietà di noi, Signore, per la Tua misericordia Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen! Manda il Tuo Santo Angelo a custodire, a confortare, visitare, difendere, fa stare nell'abbondanza tutti coloro che lavorano in questo pub Per Cristo nostro Signore, Amen! Maria, Madre dell'abbondanza, prega per noi, auguri! Ed eccomi qui, in compagnia della mamma di Giuseppe, come vi chiamate? Antonietta! Signora Antonietta, un augurio di vero cuore a Giuseppe! Di vero cuore veramente, che vada avanti e abbia tanta fortuna in questo negozio! Quante persone all'inaugurazione di City Pump? Come vi chiamate? Salvatore Giovanni Salvatore Scopa Luigi Alessandro Facciamo un augurio di vero cuore a Giuseppe Auguri a Giuseppe, al padre, che è un grande amico nostro, e alla mamma di Giuseppe, a tutti, a tutti loro Cosa dici? Ci associamo agli auguri di Salvatore Tanti auguri a Raffaele, gli amici potissimi, un applauso! Tanti auguri a City Pump E tanti, tanti panini! Ciao! Mi aspettiamo in tanti! City Pump, paninoteca, Corso Umberto I, Casal Nuovo di Napoli! Buon panino a tutti! Grazie a tutti